Il Covid non frena la musica, quella che da sempre anima le serate al Criò. Nel rispetto delle regole, la struttura balneare, dotata di ristorante, prati e un ricorto, tutto in riva al mare di Capitello, è pronta ad inaugurare il calendario degli eventi pensati per animare l'estate 2020, che trascorrerà all'insegna del jazz. Una grande stagione musicale dedicata al jazz, organizzata dall'associazione Around Midnight di Fisciano, il cui patron Gianni Penna è conosciutissimo nell'ambiente. Da anni porta i migliori nomi del jazz internazionale e nazionale in Salerno e nel suo club di Fisciano. Quest'anno in una versione un po' più local, ma sempre di altissimo livello, abbiamo la fortuna di avere grandi personaggi del jazz. Dalle nostre parti, cominciamo domani sera con un tributo a Carlo Santana, proseguiremo per tutto il mese di luglio, tutti i venerdì di luglio, sempre qui nei giardini del Criò, nel rispetto totale di tutte le misure anti-Covid, quindi distanziamento, ampi spazi, prenotazione strettamente necessaria, quindi vi invito a prenotare tutto sul sito www.criorgezzomare.com oppure il numero di telefono 351-7878-096, prenotate, c'è la possibilità anche di cenare e subito dopo alle nove e mezza di ascoltare musica. Domani sera cominciamo con Santana e poi tutti i venerdì di luglio. Grazie, vi aspettiamo!